Oggi è la decima giornata mondiale contro l'ipertensione, quindi un male che purtroppo affligge molti, non solo italiani, ma appunto per essere mondiale, quindi affligge la maggior parte della popolazione. A parlarne oggi qui con me il professor Marco Mettimano, direttore del centro di ipertensione arteriosa del Policlinico Gemelli. Professor Mettimano, buongiorno e benvenuto su HTO. Buongiorno, grazie a lei. Allora, ipertensione arteriosa, che cos'è? Ci spieghi meglio che cosa significa? Ipertensione arteriosa non è una malattia, è sostanzialmente una condizione che se non curata porta malattie. Su quelle che sono le cause di ipertensione arteriosa noi abbiamo una predisposizione sicuramente familiare e su questa predisposizione familiare abbiamo l'influenza di molti fattori di rischio, che sono sostanzialmente i fattori in cui in prima battuta dobbiamo agire. E dobbiamo agire perché sono, a differenza del fattore genetico, quindi quello che noi ereditiamo dai nostri consanguini, dei fattori che si possono correggere. Fondamentalmente sono una dieta equilibrata e come dieta equilibrata c'è una ridotta assunzione di sodio, si dovrebbe incrementare quella che è l'alimentazione con frutta e verdura e oltre alla dieta il presupposto fondamentale delle norme che un paziente iperteso deve seguire è quello ovviamente di mangiare un certo tipo di cibo ed è quello ovviamente di perdere peso. Quindi la dieta deve essere controllata come tipo di alimenti e deve essere con un contributo in calorie ridotto rispetto al normale, a quello che assume normalmente il paziente. Altro presupposto essenziale è l'attività fisica. Non abbiamo una società che ci porta a utilizzare sempre di meno quelli che sono le normali, cioè camminare, andare in bicicletta, siamo tutti abituati ad andare in macchina, motorina e quant'altro. Più ci si muove meglio è. Questo per prevenire sia l'ipertensione ma per prevenire globalmente tutte le malattie cardiovascolari. Su questi fattori si può agire molto facilmente. Il fattore diciamo che noi viviamo nella quotidianità è lo stress. Dobbiamo cercare in qualche modo di modulare lo stress, in qualche modo di rilassarsi per quanto è possibile. È ovvio che queste sono cose più facili da dire che da mettere in pratica e sono anche i fattori sui quali poi il paziente generalmente è più resistente. Lei pensi che andare nella quotidianità di un paziente, specialmente se un paziente è diciamo anziano, sopra i 60, è molto difficile imporre queste norme di dieta perché è molto più facile dire prenditi una pillola che mangia di meno, riduci l'alcol, riduci il consumo di calorie. Per cui è come se noi in qualche modo andassimo a violare quella che è la privasi di un paziente ma il nostro compito è quello di essere ben precisi in queste norme. Noi dobbiamo essere sicuri che il paziente ha capito il nostro messaggio e quindi dobbiamo comunicarlo al paziente. E questo molte volte non avviene perché il medico dà genericamente queste indicazioni, cioè fai un po' di dieta, perdi peso ma rimane tutto generico. Queste sono le norme principali che vanno seguite. Per quanto riguarda la pressione noi abbiamo varie scale di pressione arteriosa, il paziente può essere del fito normale, può averla alta, medio alta eccetera eccetera. Il controllo ottimale è minore di 120 e minore di 80. Il controllo normale massimo consentito è che la pressione deve essere sotto i 140 la sistolica e sotto i 90 militri di mercuro la diastolica. Adesso vorrei fare un esempio con una di quelle che le apparecchiature diciamo più moderne per misurare la pressione. Questo interagisce diciamo in bluetooth con un apparecchio molto diffuso in commercio che tutti riconoscerete e sostanzialmente il bracciale è un bracciale classico per la pressione, si applica al bracciale della paziente, viene stretto, la schiena deve essere poggiata direttamente allo schienale, il braccio deve essere completamente adagiato, la paziente deve essere rilassata. L'apparecchio parte così e dopo un po' avremo sullo schermo la misurazione della pressione. Questo apparecchio che è innovativo, non che i dati siano più precisi che con gli apparecchi classici, ma ci può permettere se collegati a un centro dell'ipertensione, a un ospedale o al medico di famiglia di interagire poi tramite poste elettroniche e quindi di mandare i dati in lettura pressoché reale di quella che è la nostra pressione per cui il fatto di andare dal medico, la paziente in questo momento è una paziente ovviamente sana e fondamentalmente ipotesa, oggi è una giornata calda, quindi di interagire col medico e di far sì che il medico possa leggere in diretta i valori della pressione e quindi comunicare se necessario quelle variazioni che in tempi addietro avrebbero richiesto una latenza più lunga di quella abituale. Quindi oggi si può fare questa cosa, c'è questo collegamento con i medici o potrà esserci in futuro? Qui purtroppo non abbiamo il collegamento wireless, in ospedale questo noi già lo facciamo per cui sostanzialmente stiamo già seguendo un gruppo di pazienti che vengono monitorati con questo sistema, loro hanno a casa esattamente questo apparecchio, hanno quello, non è obbligatorio avere questo apparecchio, gli apparecchi per la pressione sono svariati, quello diciamo ancora più valido e più preciso è la vecchia colonna di mercurio, il mercurio è stato un po' desueto non perché non sia preciso ma perché è stato smaltito per problemi di tossicità. L'importante è misurarla, l'importante è comunicarla al medico, l'importante è controllarsi e soprattutto quando si sta bene, non aspettare che ci sia mali. Professore sfatiamo forse qualche mito, c'è qualcuno ancora che dice che la pressione va anche in base all'età, quindi se si ha 60 anni 160 come diastolica, come valore diastolico va bene oppure come massimo, valore massimo? Questo purtroppo è un falso mito, è qualcosa con la quale noi, io sono abbastanza grande per cui ho studiato con queste teorie, queste teorie sono assolutamente sorpassate ed errate, quel rischio vascolare, quella pressione porta a quell'età, un rischio cardiovascolare esattamente raddoppiato a un valore esattamente normale. Dobbiamo cercare di abbassare la pressione il più possibile nei limiti di quello che poi è il benessere del paziente. Invece per quanto riguarda una donna in gravidanza, i valori sono sempre quelli oppure variano? La gravidanza è un momento molto delicato per la pressione, la gravidanza va monitorata nei primi mesi di gravidanza e soprattutto in quello che è l'ultimo trimestre di gravidanza. C'è un rischio remoto di patologie molto gravi per la partoriente e per il prodotto del concepimento che possono mettere proprio a rischio la gravidanza, per cui è importante controllarla e deve essere sostanzialmente più bassa possibile, più è bassa e meglio è. Il paziente ipoteso, a differenza del paziente iperteso, se non ha disturbi non va mai curato. Il paziente iperteso va sempre curato. Quindi il paziente ipoteso si deve trattare soltanto se ha manifestazioni. Se non ha manifestazioni l'ipotensione è un elisir di lunga vita. Invece quali sono i sintomi che ci fanno capire che siamo ipertesi? Questa è una domanda importante. Ipertensione è chiamata dagli americani dei silent killer, killer silente. E sostanzialmente, al di fuori di quello che si pensa, la sintomatologia dell'iperteso è molto sfumata. Ci possono essere vertigini, sbandamenti, disturbi della vista, ma il più delle volte si manifesta senza disturbi particolari. E il più delle volte la diagnosi di ipertensione viene fatta casualmente o con l'apparecchio dell'amico o il più delle volte quando si fa la routine per fare qualche esame, non so, per poter fare un'attacca, per poter fare qualche esame, ci controlliamo la pressione. Non ha sintomi e questo la rende ancora più subdola. L'ipertensione è un po' come la ruggine. Piano piano corrode tutto senza dare grossi disturbi. Ed è questo, insomma, quello a cui il più delle volte bisogna stare attenti. Parliamo invece adesso di numeri. Quanti sono più o meno gli ipertesi in Italia oggi? La popolazione degli ipertesi in Italia è all'incirca del 25%, quindi uno su quattro. Questa popolazione è una popolazione sostanzialmente in crescita, perché si stanno modificando le abitudini di vita purtroppo in peggio. e di questo 25%, 30% è una percentuale che tra l'altro sale a seconda dell'età, per cui è chiaro che più si diventa anziani più la pressione sale. Di questo 25% meno della metà si cura e meno della metà che si cura raggiunge il target ottimale stabilito dalle nostre norme, dalle nostre tabelle. Non basta prendersi la pasticca e aver la coscienza a posto, ma bisogna prendere la pasticca e soprattutto controllarla. Giustissimo. Ne soffrono più le donne o gli uomini? A percentuale è uguale, c'è qualche leggera differenza in relazione a problemi della menopausa nella donna, per cui inizialmente ne soffre più l'uomo, poi con l'età e col tempo le cose si pareggiano. Come al solito, naturalmente. Professore, un'ultima domanda. Invece per quanto riguarda gli adolescenti, la pressione tende ad essere un pochino più alta? Il problema dell'adolescenza è legato al problema della dieta. Noi siamo purtroppo ancora con la concezione che il grasso, il sovrappeso è bello, dobbiamo stare molto attenti con i nostri figli, fin da bambini, a regolare sia le calorie sia la quantità di sale assunto. Io non ho mai preparato pappine per i bambini, però le pappine dovrebbero essere meno saporite possibile, cioè l'aggiunta di sodio deve essere sicuramente ridotta. Per cui se questi fattori trovano geneticamente una predisposizione, che è quella sempre familiare, sempre quella dei genitori, si sviluppano molto più facilmente. Allora professore, adesso le chiedo solamente di dare 5 consigli ai nostri amici di HTO per cercare di prevenire l'ipertensione. Il primo consiglio, l'abbiamo detto, la dieta, il secondo cotiglio l'attività fisica, ridurre quelli che sono gli alti fattori di rischio quotidiani, quindi il fumo, l'alcol, cercare di modulare lo stress e il quinto è di misurarla di tanto in tanto. Naturalmente poi per tutti i nostri amici di HTO che volessero avere maggiori informazioni e quindi anche essere così aiutati, supportati dal professor Marco Mettimano, l'importante è andare da lui al centro di ipertensione arteriosa al Policlinico Gemelli e sicuramente con tutto il suo staff accoglierà tutti gli amici di HTO che ne avranno bisogno. Professor Mettimano, grazie. Grazie mille, grazie a lei. Grazie a tutti.